Buone notizie per i pendolari di poca paglia che scelgono di utilizzare il treno per lavoro sono pendolari per motivi di studio. La linea Alba Bra che nei mesi scorsi aveva visto sopprimere alcune fermate tra cui quella di Macellai, dopo le istanze di lavoratori e studenti, la regione ha colto la richiesta del comune di ripristinare almeno due fermate. La stazione si trova nella popolosa frazione di Macellai, a punto di riferimento anche per casa e altre borgate vicine e sono in molti gli studenti che devono recarsi nella capitale delle Langhe. L'amministrazione guidata da Giuseppe D'Acomo ha portato l'istanza dei viaggiatori ai funzionari dell'assessorato regionale ai trasporti, sottolineando che il collegamento in quella tratta non è previsto con mezzi pubblici alternativi. L'accordo concluso tra le varie parti ha previsto due corse, ma l'amministrazione non esclude che ve ne possano essere altre in futuro. Il tempo di completare le modifiche sugli orari e le fermate saranno ripristinate. Si tratta di una corsa al mattino verso Alba e una di ritorno nel pomeriggio. Si è svolta al Roteri di Bra una serata per parlare delle sorti dei tribunali. Se chiude ad Alba, la stessa sorte toccherà alla città della Zizzola. È intervenuto l'avvocato Giancarlo Bongioanni, presidente del Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Alba. La revisione della circoscrizione giudiziaria, approvata lo scorso settembre dal Consiglio dei Ministri, prevede entro il massimo settembre il trasferimento di tutto l'organico di Alba al Tribunale di Asti. Quindi anche il Tribunale di Bra, sede di staccata di Alba, subirà la stessa sorte. Come impedire di perdere il Tribunale di Alba e di conseguenza anche quello di Bra, l'avvocato Bongiovanni inizia citando Giulio Croce. Non si fa l'avvocato, ma si è avvocato, se non è meglio fare altro. E spiega, per questo sono ancora qui a combattere per qualcosa e cui credo molto, il nostro è un grande territorio di grande valore. Basti pensare che tra Alba, Cherasco, Bra, nel raggio di pochi chilometri ci sono una decina di multinazionali, di cui la Ferrero è la prima, ma non è la sola. La BRC di Cherasco ha mille dipendenti, la Miroglio, la San Paolo e via discorrendo. In ogni settore ci sono aziende leader che creano altre aziende. L'avvocato Bongiovanni conclude che non meritiamo di essere quindi sacrificati. Si è svolta martedì l'incontro tra i sindaci di comuni dove risiedono i lavoratori della Clinker Sire, presenti alla riunione anche un rappresentante della provincia, le rappresentanze sindacali e l'amministratore delegato dell'azienda Sergio Trenchero. La Clinker Sire, azienda che sede a Cappellazzo, leader dal 1971 nella produzione di piastrelle. Da tempo soffre la crisi del comparto edile. Dal 1 gennaio è posto in liquidazione volontaria, a rischio sono 170 posti di lavoro. I dipendenti sono quasi tutti residenti sul territorio braidese, 49 nella città della Zizzola, 29 a Cherasco, 26 a Cervere, 14 a Savigliano, altrettanti a Marene e 8 a Fossano e 5 a Cavaller Maggiore. L'incontro avvenuto tra le parti, voluto dal sindaco di Cherasco Claudio Bogetti, aveva una tripice finalità, quella di illustrare la situazione attuale dell'azienda e dei lavoratori, che pur avendo percepito la tredicesima, sono ancora in attesa dello stipendio di dicembre, trovare forme di welfare che possano aiutare le famiglie interessate della situazione, essere uniti come territorio al fine di portare a Roma, presso il Ministero, un incontro che si tiene mercoledì 6 febbraio, un'unica voce che è quella di salvaguardare i lavoratori e sollecitare tutte le forme di ammortizzatori sociali possibili.